Nel Cilento, dove è emergenza furti, arriva il controllo di vicinato. Sta per essere stipulato il protocollo d'intesa. Sono troppi i colpi messi a segno dai malviventi e i cittadini sono esasperati. La scorsa settimana a Vallo della Lucania si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, preseduto dal prefetto Francesco Esposito. Dalla riunione vennero fuori le azioni da mettere in campo per contrastare il fenomeno. Nel Cilento è arrivata nel Cilento la squadra di intervento operativo dei carabinieri a supporto dei militari delle stazioni locali. Sono stati predisposti servizi straordinari periodici congiunti a livello di interforze con il coordinamento della questura. E ora, mercoledì 21 febbraio, i comuni di Ceraso, Cuccaro-Vetere, Vallo della Lucania e Rufrano stipuleranno davanti al prefetto un protocollo d'intesa per costituire il controllo di vicinato. Vale a dire un gruppo organizzato di cittadini che puntano a collaborare alla sicurezza pubblica insieme alle forze dell'ordine solo dopo aver effettuato corsi di formazione. Quindi si creerà un organo di controllo per contrastare le ronde nate spontaneamente tra i cittadini. Nella riunione a Vallo, infatti, ai sindaci fu suggerito di adottare un protocollo d'intesa proprio per istituire il controllo di vicinato, che serve a rafforzare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell'ordine. I cittadini in particolare dovranno svolgere un ruolo di segnalazione di eventuali casi sospetti. Saranno poi carabinieri ad occuparsi di controllo e per l'ostrazione del territorio. Nel corso dell'incontro è emerso chiaro il no alle ronde che potrebbero essere pericolose e poco utili a intracciare il lavoro delle forze dell'ordine.